signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai e sono il vostro ospio e su questo canale e adesso dovrei dire che questo è il penultimo appuntamento della serie sulle sei culture del gioco di ruolo ma in realtà negli ultimi mesi tempo che andava questa serie mi sono arrivate talmente tante proposte suggerimenti richieste su video specifici che posso già fare che dirvi la serie andrà avanti diventerà probabilmente una delle serie regolari anche se non so con quale regolarità in cui vedremo altri aspetti andremo a spiegare nel dettaglio alcuni aspetti di quello abbiamo già parlato comunque dato che tanti mi hanno fatto la domanda si posso già fare che dirvi la serie andrà avanti anche se mi prenderò un attimo di pausa perché già i video che abbiamo realizzato finora fidatevi hanno richiesto molto più lavoro di quello che sembra tornando a noi negli scorsi video abbiamo visto la cultura classica che ha dato origine a tutto il gioco di ruolo e la sua reinterpretazione moderna dell'osr abbiamo visto la cultura trad che rappresenta il grosso del gioco di ruolo e la neo trad che quella che si propone di andare a scalzarla da questo primato questa settimana andremo a concentrarsi sulle ultime due che sono quelle che rappresentano i maggiori elementi di rottura con tutto il resto del panorama del gioco di ruolo non perdiamo altro tempo e andiamo subito a parlare del nordic larp che probabilmente di tutte le culture di cui abbiamo parlato finora è quella minoritaria non per importanza ma proprio come numeri ci sono molte poche persone che si sentono totalmente rappresentati da questa corrente di pensiero perché il nordic larp va a concentrarsi su uno degli aspetti che per la maggior parte dei gruppi di gioco è un vero e proprio anatema il realismo qualche mese fa qua sul canale è uscito un video ve lo lascio anche qua su in alto in cui abbiamo parlato di tutto il gradiente che va nell'interpretazione del personaggio dalla totale immedesimazione nel personaggio al totale distacco e usare il personaggio semplicemente come un blocco di statistiche e in cui il video ho detto che nella mia opinione personale sicuramente non usarlo un blocco di statistiche ma che il gioco ideale sia quando l'interpretazione di ruolo è orientata più verso il distacco al personaggio che verso la sua immedesimazione ecco gli esponenti del nordic larp in quel momento stavano urlando contro lo schermo il nordic larp vede infatti il gioco di ruolo come un mezzo per provare forti emozioni forte rilevanza emotiva e ha quindi al centro del suo stile di gioco proprio la totale immedesimazione nel personaggio e soprattutto quell'effetto che viene chiamato il bleed o se volete italianizzarlo il travaso cioè una parte delle emozioni dell'esperienza del vissuto del giocatore viene travasata all'interno del personaggio ma anche una parte delle emozioni delle esperienze che il personaggio sta vivendo viene di rimando travasata all'interno del giocatore per causare un effetto catartico per ottenere questi effetti il nordic larp utilizza una serie di accorgimenti quello ovvio è che le storie che vengono raccontate in un tavolo nordic larp normalmente sono già pensate per essere storie molto emozionanti che abbiano un profondo impatto emotivo che siano horror particolarmente spinti travolgenti storie d'amore quello che è sono storie pensate per suscitare forti emozioni nei giocatori ma oltre questo ci sono proprio dei metodi pratici è molto comune che un tavolo nordic larp tenga sessioni magari più rare ma molto più lunghe magari in condizioni in cui il gruppo di gioco è proprio isolato dall'ambiente esterno in modo da poterci concentrare esclusivamente sulle vicende del gioco se la maggior parte dei gruppi di gioco giocano una volta alla settimana per qualche ora un gruppo nordic larp probabilmente giocherà una volta al mese ma dalla mattina alla sera per un intero weekend continuato magari in una baita in montagna isolata dove nessuno andrà a rompergli le balle con i cellulari spenti sempre per favorire l'interpretazione il nordic larp è anche quella di tutte le culture che fa più ampio uso di prop and out e qualsiasi altra suppellettile di gioco per dare delle sensazioni fisiche ai propri giocatori un master nordic larp molto probabilmente darà fisicamente un oggetto in mano ai giocatori quando i loro personaggi lo trovano all'interno del gioco come suggerisce il nome il nordic larp ha anche una pesante influenza su il larp vero e proprio inteso come live action role play quello che noi chiamiamo il gioco di ruolo dal vivo di tutte questa è la cultura più propensa a organizzare grandi eventi in costume in cui la gente deve direttamente prendere i panni del loro personaggio nella maniera più letterale possibile e soprattutto questi eventi tendono a essere molto grandi perché il nordic larp dà molta meno enfasi su quella che è l'autorialità del master della storia che viene imposta sui giocatori per dare più possibilità ai giocatori di interagire tra di loro proprio nei panni dei personaggi in modo da accentuare ancora di più questa immedesimazione del personaggio e ovviamente più persone ci sono più forte sarà la risposta emotiva a ogni evento che succederà questo ve lo posso dire per esperienza personale io ho fatto l'arp per molti anni e effettivamente essere circondato da persone in costume aiuta l'immedesimazione ma soprattutto se tu devi difendere una linea con altre dieci persone mentre altre tante persone cercano di caricarti e sfondare quella linea sentirselo descrivere a parole quando si al tavolo è una cosa essere presenti mentre succede è una cosa totalmente diversa non fate però l'errore di pensare che il nordic larp per via del nome sia limitato solo esclusivamente al gioco ruolo al vivo no la maggior parte dei tavoli nordic larp si ritrova appunto al tavolo magari anche una cultura in cui è possibile trovare effettivamente quel giocatore che per quanto si giochi al tavolo indossi un particolare prop particolarmente rilevante per il suo personaggio se in altri ambienti verrebbe visto come eccessivo nel nordic larp è anche apprezzato quello che il nordic larp normalmente non fa è il gioco di ruolo in telepresenza perché mette molte più barriere tra i giocatori rende molto più difficile l'interazione fisica con le cose di conseguenza il gioco al telefono tramite computer è quello che ha le minori risposte emotive e quindi è diametralmente opposto a tutta quella che è la filosofia di base di questa cultura quando parliamo di story game intendiamo tutti quei giochi che vanno a portare una rottura da quello che è l'impianto tradizionale del gioco di ruolo quasi sempre proprio a livello di regolamento stiamo parlando di giochi che ristabiliscono i canoni dell'autorità narrativa per esempio non ci sono master giocatori magari non ci sono neanche personaggi e png sono tutti quei giochi che in qualche modo prendono quello che è il classico gioco di ruolo inteso proprio il gioco di ruolo come se lo immagina e cercano di ribaltarlo per crearlo nuovi tipi di esperienze stiamo parlando di giochi in cui molto spesso l'intero regolamento è proprio orientato a creare un tipo specifico di esperienza di gioco a discapito di tutti gli altri per dare a chi ci gioca la certezza di avere uno specifico focus su uno specifico argomento durante la sessione cosa sia quell'elemento specifico su cui il gioco va a focalizzarsi dipende da gioco a gioco possiamo avere cose estremamente specifiche in fiasco i giocatori devono elaborare un piano che poi fallirà letteralmente da regole il piano è destinato a fallire e poi i giocatori dovranno gestire le conseguenze di questo fallimento un'esperienza molto fibile a un film alla the snatch per capirci però ci sono anche giochi che hanno un focus ma lasciano molta più libertà su quella che effettivamente la storia avventure in prima serata tecnicamente non ha una sua ambientazione ci si può giocare qualsiasi cosa si voglia perché il focus delle regole non è tanto quello di rendere un particolare evento che avviene nel gioco ma quello di gestire l'intero gioco come se fosse una serie televisiva usando il regolamento di avventure in prima serata qualunque storia verrà raccontata verrà raccontata in scene attraverso un'ottica che potrebbe assomigliare veramente molto a un telefilm degli anni 90 inizio anni 2000 e questi sono giochi che comunque sono molto simili al gioco tradizionale al gioco classico ci sono dei giocatori ogni giocatore ha un personaggio è possibile trovare cose molto molto più distanti da quello che è il gioco di ruolo normale se vogliamo dire così le possibilità sono le più disparate in realtà le combinazioni sono potenzialmente infinite in l'overcraftesque esiste un solo personaggio e tutti i giocatori a turno ne prendono il controllo per descrivere la sua lenta e inesorabile discesa verso la follia dopo essere stato esposto agli orrori cosmici ma ci sono cose ancora più lontane microscope di cui abbiamo anche fatto una serie sul canale ve la lascio qua su se volete vedere come si comporta effettivamente al tavolo uno story game è un gioco in cui non esistono personaggi non esiste un master i vari giocatori a turno inseriscono elementi che vanno a formare la storia di un'intera ambientazione vista attraverso le sue epoche e diciamo che con questi titoli io mi sono limitato a quelli più famosi più giocati più diffusi se andate a scavare trovate letteralmente qualunque cosa possiate immaginarvi è effettivamente difficile dare una definizione univoca di cosa sia uno story game perché lo story game non è tanto caratterizzato da una quantità di elementi che i giochi che esprimono questa cultura hanno in comune tra i loro quanto il fatto che sono diversi da tutti gli altri giochi di tutte le altre culture lo stesso nome story game probabilmente è improprio e in realtà è una definizione che arriva dall'ambiente trad nel gioco e ruolo tradizionale normalmente i giochi hanno una componente narrativa una componente di storia e una componente tattica di miniatura o comunque una componente di combattimento dato che in linea generale molti story game non hanno una vera e propria componente di combattimento per il trad questi sono giochi in cui c'è solo la storia e di conseguenza sono gli story game per lo stesso principio in italiano molto spesso sono chiamati i giochi narrativi in quanto solo narrazione niente combattimento ma tra l'altro questo non è neanche vero perché ci sono comunque story game che si concentrano sul combattimento anche se magari non su aspetti come tiri per colpire punti ferita ma su esperienze molto più focalizzate rispetto a determinati aspetti della guerra dell'arte di combattere trincea è un gioco in cui viene simulata l'esperienza di essere un soldato di fanteria durante la prima guerra mondiale e si concentra appunto sugli orroi della guerra i traumi del combattimento spoiler sicuramente un gioco di grande intrattenimento ma sicuramente non è un gioco divertente mettiamola così e in realtà questa definizione comunque traballa perché esistono anche giochi che sono considerati story game nome nera è un gioco che ha una pesantissima componente narrativa ma comunque contiene un sistema di combattimento tattico molto più astratto rispetto a quello cui magari un giocatore trad è abituato ma comunque c'è la potenzialità per mettere una plancia sul tavolo e muoverci delle miniature attorno a volte è possibile sentirli chiamare giochi forgiti perché i primi di questi giochi furono creati tramite il lavoro su un blog di design sperimentale del gioco di ruolo chiamato The Forge però questa è una cosa avvenuta vent'anni fa e la maggior parte degli story game attuali non solo si basa su dei principi di design ovviamente evoluti nel corso degli anni ma non possono neanche tracciare una vera e propria continuità diretta con il blog di The Forge a volte lì si sente chiamare giochi indie e sì in effetti la maggior parte di loro effettivamente arriva dal circuito del gioco ruolo indipendente perché trattandosi di giochi che di norma sono relativamente più contenuti proprio perché pensati per uno specifico tipo di esperienza e quindi richiedono proprio un budget più basso per lo sviluppo sono progetti molto più allettanti per uno sviluppatore indipendente però tecnicamente il gioco di ruolo indipendente per antonomasia è Pathfinder 1 che è un librone di centinaia di pagine e che è la quintessenza del gioco trad probabilmente l'ultimo gioco trad mai creato e sulla carta il gioco trad che ha avuto il maggiore successo in assoluto proprio per il fatto che la maggior parte di questi giochi non ha elementi in comune l'uno con l'altro è proprio difficile trovare un nome per la loro categoria io in questa serie ho deciso semplicemente di mantenere il termine story game che è quello usato dal Retired Adventure nel suo articolo su cui tutto questo si basa semplicemente per continuità con il lavoro originale ma lo stesso Retired Adventure nel suo articolo lamenta il fatto che sia difficile trovare un modo univoco per classificare questi giochi diciamo però che se in altri giochi le regole sono pensate per descrivere principalmente il funzionalmento del mondo di gioco e come le azioni dei personaggi vanno a influenzare questo mondo negli story game il concept dietro le regole è proprio diverso normalmente le regole sono scritte per forzare un specifico tema, un specifico tipo di storia che negli altri giochi in realtà è stata normalmente lasciata alla discrezionalità del tavolo o del master come volete comunque in un gioco tradizionale le regole descrivono il mondo il master decide quale tipo di storia può ambientarci in uno story game non c'è questa autorialità da parte del master o del tavolo e il designer ha a decidere esattamente tutti i canoni della storia e poi scrivere un regolamento in modo che questo tipo di storia avvenga sicuramente i giocatori seguendo quelle regole avranno sicuramente l'esperienza che il designer gli voleva proporre e visto che il designer è proprio l'elemento che ha più autorità in questi tipo di giochi la cosa migliore da fare è andare a parlare proprio con uno di essi quindi tra un paio di settimane avremo come ospite Arco Delegger che è un designer di giochi indipendenti appunto di story game che ci verrà a parlare di qual è l'ambiente degli story game come ci si comporta un tavolo durante uno story game come avete visto nelle interviste ai nostri ospiti precedenti fino ad allora come sempre se avete domande, dubbi, perplessità scrivete tutto nei commenti qui sotto anche se stavolta spero proprio che sia qualcun altro a rispondere ai commenti perché gli story game sono probabilmente la cultura di gioco che è più lontana da quello che faccio io e per quanto ne conosca alcuni e ne apprezzi altri non è proprio il mio campo di esperienza comunque se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo per crescere il canale iscrivetevi e scacciate la campanella per ricevere notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link al server di discord, al gruppo i telegram dove metto io le notifiche manualmente e dove si raduna anche la community che passa la maggior parte del suo tempo a litigare proprio su questo genere di cose quindi non ci andate per il resto io sono il Master Kai e noi ci vediamo nel prossimo video